Giuseppina Pasqualina di Marineo, questo è il vero nome dell'artista Pippa Bacca che esattamente dieci anni fa veniva violentata e poi uccisa da un camionista poco fuori Istanbul durante una delle tappe del suo viaggio performance Bride on Tour. Questa è la foto, una delle foto di Pippa Bacca. Ma che cos'era il Bride on Tour? Lo vediamo subito in questo video. Si trattava in pratica di un viaggio, un viaggio in autostop che lei stava portando avanti in abito da sposa per portare il messaggio della pace, della solidarietà, della fiducia, dell'amicizia solcando territori segnati da conflitti. Un viaggio che è stato bruscamente interrotto come la stessa vita di Pippa Bacca dunque da un balordo. E allora un network di artisti OGM ha dieci anni dalla scomparsa di Pippa Bacca ha voluto creare questo video per ricordarla. Tanti artisti che hanno semplicemente risposto alla domanda perché ti sei innamorato di Pippa Bacca e il senso delle risposte di tanti che hanno partecipato è più o meno lo stesso. Perché vedeva il bello in tutto ciò che incontrava, perché metteva energia in tutto ciò che faceva, perché ha mostrato quanta bellezza c'è nel mondo. E perché soprattutto, lei ha ancora le immagini del viaggio, lei era innamorata di tutti noi. Dunque a dieci anni di distanza possiamo dire che il messaggio di Pippa Bacca è ancora vivo nonostante tutto.